Se mi dici mare io ti dico onde, vento, libertà. Tecnologia, nuovi modi di vivere. Questo è combustibile, questa è acqua distillata. Qui dentro c'è energia per mandare avanti una città della dimensione di Cagliari. Qui dentro, 50 centesimi. Il mio progetto di ricerca e mio lavoro si concentra sulla possibilità di fare carburanti sintetici. Dall'idrogeno e dall'anidride carbonica. Mi porto a casa una bella giornata di sole. Sicuramente ho scoperto cose nuove che mi ricorderò e mi faranno cambiare anche il modo di pensare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.